Amici lettori di Valsuza Oggi, buongiorno, siamo ad Avigliana, il signor Amendola Stefano, buongiorno, ci può spiegare, dire ai lettori di Valsuza Oggi, quali sono le novità per Natale? Allora, ciao a tutti, le storie di Valsuza Oggi, come novità di Natale possiamo offrirvi quello che sono i nostri gift card per regalare bellezza, i cofanetti ed è ancora rimasta l'ultima SteamPod di L'Oreal Professionnel. Che dire, vi aspettiamo in Salone per una consulenza senza impegno, soprattutto se passate da Avigliana e volete mettere un vostro desiderio sulla nostra vetrina dei desideri, ci fa molto piacere e se ci taggate. Quindi, grazie, seguiteci sui nostri canali social, sia Instagram che Facebook, vi aspettiamo in Salone. Molto bene, signor Stefano, grazie, buon proseguimento e buone feste. Buona festa a tutti. Grazie a tutti.